una cammina all'interno di una bomba che dove c'è la bomba e due cuori minor importanti ho parlato in tempo tempo dei droni dove c'er membership allora niente bestemmie e parolacce posto in ultima ma non ha detto una padre questa qualcuno che ha qua lo cosa di ferro perché farlo io quando un robot lo fa meglio te l'ho detto prima oh mentre hai la barricata di ferro qua da mettere ah è già messo con i due ragazzi hai messo le bloccaglie dove ah allora stiamo attenti allora stiamo attenta alle giacali ok la sopra ok sopra no come senso sensore c'è blackboard con mendicare mente sempre che tipo un blocco ecco ecco la io sono qua pronto ora non mette merci non mettersi davanti l'ho ricordato di giro e accoglietto arrivano a no è il teatro l'ho trovato di giro io appena vedo sempre voluto bene allora io rimango da solo spesa che arrivo no 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 sto com'è sto un po allora non mi fanno ma è tutto un bifo aspetta io sono pronto porca di qua oh è caperato qua qua dietro c'è tutto il bigliardino qua c'è tipo un bigliardino lì no non qua ecco ci sono provano ad andare da dietro hanno trovato una bomba sapete cosa fare vedete per farlo io no ti ho finito questa però entriamo ok dov'è oh oh ma non è qua è nella porta destra no c'è blitz qua no montagne ecco c'è un operatore alleato in nato no dov'è la squadra d'attacco ha trovato una bomba da qua disinnescatore in campo dov'è era con sta porta destra no no prima cosa Gav si è riscatto anche di morire dove c'era qua dove c'era quel buco lì dal muro perchè ha pushato e quindi già sei scemo il tuo perchè mai pushare dove c'è così cioè controlla ehm ma io ma io ma io sono va bene si provo un po' vero in questa mappa che che metto che metto che metto qui già anzi no ma altro ma TMS Mirkarl Mirkarl era quello che no era quello che avevamo trovato l'altra volta quello con lo 0-9 ehm difendete l'area e proteggete le bombe ehm no non lo so che oddio è vero e infatti oddio era lui è vero vero che è stato pronto infatti da che mi mi roma il muro è stato rinforzato scusate tutto qua raga qua ci avete delle barricate sto solo per un secondo avete due barricate no una una barricata oh ragazzi siamo 5 contro il tempo che potremmo già pushare per me se guardate la mia raga se guardate la mia seconda ti sta ma ma ti sta di oh raga le sue le tracce e dalle scale e dalle scale raga 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 ne hanno scoperto la mia posizione questa questa parte raga sanno dove sono raga sanno dove sono hanno trovato una bomba sapete cosa fare oh questa no avvo caricatore oh ah no ok scusate dove dove mi metto dove mi metto dove mi metto oh raga 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 qua c'è un ace qua c'è un ace qua c'è un ace lo sto un po' colpendo oh no raga che mi uccido raga jackal dov'è allora praticamente ho sfondato la porta principale raga ve lo segnalo forse riesco a segnalarvelo no niente no mi hanno individuato raga è da una bomba raga mi hanno individuato dalla B o dalla B o dalla A no ho ucciso madonna chi jackal sono rimasto a 18 di vita eh è qua in sto posto mi ucciso vedi che c'è il gioco il maestro oh 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 a terra vai oddio ah no perchè c'era hit e vai grande assist collochi del male grande che ho ucciso io sono oh oh grande grazie che mi ha fatto dall'assist collochi e mai anche in giù potete venire e ora si viene a stare no ok wtf però in giusto ma proprio veramente l'odio che mi metto è oh doc con valkyrie siamo proteggete le bombe non 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 anche io nello un attimo invitato ma stato individuato da lindone ammazzo mamma mannaggia ok se avete sentito in tutti lasciate stare e se ricrepo per il primo io devo perdere no 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 vabbè tanto cosa tanto sono importantissimo parola cia 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 ah da qua qua eravate voi c'è un abetti ciao io ti sto mirando mai su qua 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 aspetta aspetta boom è la cosa a me e non sperare no no ok ok perchè non prendi un certo capitolo sta allontanano ma non prendono mai danno le mie granate io non ho più c4 no stanno facendo il giro mi sa va difesa ecco non penso oh si e infatti mi sono colpendo tantissimo da lì ok no eh mi sa che siamo oh raga capitolo ah ah raga il fuoco di capitolo state attenti assist come oh raga io esco non me lo frega no no eccò ucciso un secondo con tre guardi dai però ti vuoi ritornare non lo so non lo so ok raga Ci siamo Seconda e ultima partita Del giorno Le partite durano Un po' Ok Ok ragazzi ci siamo E Siamo in partita E io sto facendo il giro del mondo Ecco Un buchetto Il drone ha trovato una bomba L'arcobaleno è bello L'arcobaleno è bello Ho trovato una bomba 20 secondi all'inserimento Inserimento tra 5 secondi Oh Bomba individuata L'obiettivo è raggiungerla e disinnescarla Vabbè Preparo l'assorbente Ok ragazzi Siamo Stanno succedendo cose Entra da qua Ah Ho 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 Terrato Ho Terrato Come? Non hai più il disinnescatore Eh Arriva Aspetta Dove sei? Guarda un po' che taglio Tira dopo Non hai più il disinnescino Non hai più il disinnescino Non hai più il disinnescino Ok Ok No no Blitz 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 Ok ragazzi Secondo Secondo round Mi metto Blitz Ok Ok Fugio Allora Basta Dimmi Dove sono Ok Dovete usare il drone Per trovare una bomba Ok Ok Raga Ci siamo Ci siamo Ci siamo Tante Vabbè Ecco Valkyrie Ragazzi Comunque C'è il suo canale In descrizione Ve lo lascio Molto bello Molto bello No Procedere Disinnescare la bomba Ne ha 17 E che abbiamo superato Non me lo ricordo Ok Dove Cavolo Fugio Spera Arrivo 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 Ss Ma Vabbè E per sicurezza Io fuggio Poi si ammacciono Qualche compagno Hai trovato una bomba Rimane un emuso Vabbè Eruzione FDI Chi Ma Quanto smirato Trova Eh sì Ma Mi sta facendo Dai Dai Fari 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 Doc Della Seconda Guerra Mondiale Di Aldi O Si 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 Iscritto Al Mio Canale Per Que Va Va Vabbè L'impatto è dura! Piaccio sento! Moro rimpassato! Ancora 10 secondi! Restano 5 secondi! Mettuto tappeto! Dovete impedire che il nemico disegnerchi le vostre bombe! Ok, ok, ok! Ok, ho detto! Toglilo! Io esplodo tutto! Sì Anch'io Dove? Aspetta mi dovevo grattare Aspetta Non mi metto davanti Ecco As Aspetta Arrivò Dov'è? Beh Qua ci Oh I banana I banana No Gero il telefono Dai 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 No Non si è girato No No Le cam Le cam I banana Le cose Sa le cam Le cose No Entra col drone As Atterra Uccisa I banana Credo No 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 Spera Che lì c'era Credo ci sia un'ana Non potete Non potete nascondervi Ok Grazie Ecco Me Schifo 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 E aspetta perché Mi carico Ecco Merda Oh mio Oddio Come ho fatto Come ho fatto Fatto Come L'ho fatta Spera no Spera no Wow 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 E quella Della E' il pippo Distorto Barricolo Porta Muro In sicurezza Ok Rimangono dieci secondi Ancora cinque secondi La squadra d'attacco ha trovato una bomba Pronti all'assalto Il nemico ha trovato una bomba Prepararsi a miscaccio La Ok ragazzi Siamo Ah Cavolo È vero Ah Vero 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 No Cosa è successo È esploso il mondo No No Dai Si Ultimo nemico è rimasto non lo so dalle scale ok ti seguo piano sento spari grande grande perché non ti ha sparato questa era l'ultima partita del giorno non posso fare altro che salutarvi lasciate like iscrivetevi e ciao 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 ciao